E' la settimana degli addie e dei saluti. Dopo quelle di Michele Mignani e Simone Vergassolo, annunciati lunedì dalla società che ha comunicato l'intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno, sono arrivati i messaggi social di due calciatori, Nikita Contini e Pietro Cianci. Contini, che torna a Napoli e si giocherà una chance in Serie B, protagonista della stagione con tre rigori parati, ha ringraziato attraverso il suo progrillo Facebook. Siena ha lasciato un segno indelebile nel mio cuore, forza Roburad, ma ora sempre sperando di vederti, presto, dove meriti. Cianci invece ha scelto Instagram per salutare la città e si è soffermato sul momento in cui è stato sostituito nella partita con Novara, raccogliendo tantissimi applausi dagli spalti. Mi sono sentito a casa e sappiate che non dimenticherò. L'unico rammarico è non aver giocato quanto avrei voluto, ma ho la consapevolezza di essermi fatto trovare sempre pronto, ha spiegato il bomber Baresi. 7 gol in 32 partite, ma solo 8 da titolare. Spero non sia un addio ma una rivederci, ora sarà il Sassuolo a decidere il mio futuro. Ha concluso Cianci che nella lettera si è affermato Big Pietro come veniva soprannominato dai suoi tifosi.